Giornata di ripresa in casa Avellino, la formazione bianco-verde in campo al Partonio Lombardi per smaltire sicuramente la fatica dettata dai tanti impegni del girone di andata, ma anche per cominciare a prepararsi al meglio alla sfida del 7 gennaio ad Agropoli in casa di una Gelbison che il 30 dicembre sfiderà la Salernitana in amichevole, per parlare anche dell'attaccante norvegese Julian Christoffersen finito nel mirino dei lupi in estate. Saranno amichevole di lusso per i rosso-blu che nel contempo preparano a loro volta la prima partita del 2023 nell'inedito derby contro l'Avellino di Rastelli. Lo stesso Rastelli che immagina già il nuovo Avellino, che non si schioderà dalla difesa 4 e dal centrocampo a 3 potrebbe infatti cambiare qualcosina là davanti, ma molto dipenderà dalle tempistiche del mercato e se i rinforzi, soprattutto in avanti riusciranno ad arrivare in tempo utile per la seconda giornata di ritorno. È chiaro che in un ipotetico 4-3-1-2, modulo molto caro al trainer dei lupi russo andrebbe ad agire come trequartista, ma assolutamente non è da escludere una ripresa con il solito 4-3-3 Ci vorrà un po' di tempo per assimilare eventualmente un nuovo sistema di gioco, anche se cambierebbe davvero poco Doppia seduta domani, pomeridiana, venerdì, tutte a porte aperte, quindi visibili a stampa ai tifosi, prima di due giorni di libertà ovvero 31 dicembre e 1 gennaio. Poi sarà settimana lunga, la classica settimana tipo che porterà la gara apposta Epifania Sarà importante cominciare con il Pio giusto e chissà quanti calciatori avranno già lasciato l'Irpinia per cercare fortuna altrove Il 2 gennaio si aprirà ufficialmente il calciomercato e ci sarà la possibilità di ufficializzare le operazioni Rastelli in questi giorni ha anche la possibilità di recuperare gli acciaccati che a causa dell'influenza sono stati veramente tanti Basti pensare che contro il Pescara Rueletto è rimasto in panchina, Murano e Gambale del tutto assenti Casarini non al meglio, insomma tante defezioni che hanno influito sulla preparazione della gara e hanno però anche dato forza ad un gruppo diventato finalmente squadra